Come ti chiami? Fabrizio Mulas Qual è il progetto? Virtual Trainer Cosa è? Cosa tratta? Ah, cosa tratta? È una piattaforma web per vendere servizi legati al fitness dove una sorta di ebay dei servizi del fitness dove personal trainer, allenatori, preparatrici possono vendere tutti i servizi quindi allenamenti personalizzati per sportivi di varie discipline che vogliono cominciare a mettersi in forma, che vogliono cominciare a correre, dimagrire e così via Ok, ti ringrazio, ciao Grazie